Ieri sera, dopo un esercizio ad alta intensità fisico, quindi non un esercizio particolarmente pesante a livello di testa, ma un esercizio molto impegnativo a livello di fisico, soprattutto nella componente fiato, chiamiamola così, i ragazzi mi hanno fatto alcune domande in merito all'allenamento fisico per la difesa personale, soprattutto inerente alla gestione del fiato, al fatto che nonostante siano decentemente allenati, perché stiamo ancora lavorando per andare a colmare alcune lacune, abbiano difficoltà nel portare a termine questo esercizio. E ne sono venute fuori tutta una serie di considerazioni e un ragionamento, a parer mio, interessante, che sono certo possa interessare anche a te, perché ti darà alcune idee da applicare fin da oggi, fra 15 minuti, quando finiamo il podcast, nel tuo allenamento per la difesa personale, sia che tu sia un praticante, e ti darò alcune strategie da poter applicare direttamente a casa nel tuo allenamento, sia che tu sia un insegnante, così che tu abbia qualcosa in mano da poter adoperare subito con i tuoi allievi per andare a dargli un boost, per andare a dargli un po' di turbo sotto il punto di vista della preparazione fisica. Ma, prima di iniziare questa nuova puntata di Autodifesa Semplice, la difesa personale per chi non si sente un supereroe, voglio ringraziare, perché è dovuto, ormai lo sai, il nostro fantastico sponsor, che è Urban Budo, che è il metodo di autodifesa più figo del mondo, perché, ormai si sa, l'ho ideato io. È così figo che la voce si sta iniziando a spargere, non solo nel mondo, ma anche nell'universo, al punto che i ragazzi astronauti della stazione spaziale cinese hanno iniziato a chiedermi se per passare il tempo posso fargli delle lezioni così a distanza, quando, insomma, non hanno niente di meglio da fare durante il loro soggiorno spaziale, e io ovviamente ho detto di sì, perché almeno Urban Budo inizia ad avere un, diciamo, una risonanza, non solo più a livello terrestre, che mi sembra limitata, ma a livello intergalattico. Iniziamo a espanderci nell'universo e poi vedremo di andare da una galassia e l'altra. Bene, dopo aver detto le mie solite boiate di inizio puntata e averti dato il benvenuto a questo nuovo episodio, oggi, come ti ho detto in apertura, andremo a parlare della preparazione fisica per la difesa personale, che è un gran casino, è un bordello non indifferente, e infatti mi sono preso due appunti, mi sono fatto uno schemino che magari poi vedo anche di andare a condividere, perché credo possa essere utile da, insomma, da vedere se vuoi andare a lavorare questo tipo di attività. Intanto, cerchiamo un attimo di capire cosa ci serve per migliorare la nostra preparazione fisica quando parliamo di difesa personale. È un problema rispondere a questa domanda perché? Perché la difesa personale sfugge da tutte quelle che sono le classiche caratteristiche di un'attività sportiva, perché non abbiamo un calendario di gara, perché non abbiamo delle caratteristiche precise. Nell'attività stessa non è quasi possibile andare a strutturare quello che si chiama modello prestativo, cioè andare a fare un'analisi delle caratteristiche di forza, di metabolismo, di tempi e via dicendo, che vengono adoperate durante la performance. Perché? Perché la performance non c'è, cioè non è strutturata, non è imbrigliata in alcuni, come dire, in alcuni schemi, ok? Una performance in ambito della difesa personale può essere varia e diversa ogni volta e soprattutto ci si augura che, se questa deve esserci, questa performance ci sia una volta sola nella vita e basta ed è già troppo. Per cui andare a strutturare un modello prestativo che indirizzi il tipo di allenamento da poter strutturare è, se non impossibile, pressoché impossibile, molto difficile, assai complicato quello che preferisci, ma insomma diventa quanto utopico, ecco, diventa direi utopico, perché le variabili sono troppe. Allora cerchiamo un attimo di ragionare assieme su che cosa viene messo in gioco durante un'aggressione. Cerchiamo un attimino di fare, cercherò di fare con te esattamente lo stesso ragionamento che ho fatto l'altra sera con i ragazzi. Beh, iniziamo da... noi abbiamo due grandi componenti, che sono la componente di forza e la componente metabolica, quella che volgarmente viene chiamata fiato, ok? Iniziamo dalla componente di forza. Noi, nella difesa personale, avremo sicuramente bisogno di andare a lavorare sulla forza esplosiva e sulla forza esplosivo-reattiva, perché è tutta quella componente, se riesco a dirlo, che viene adoperata quando tiriamo i colpi, quando ci muoviamo in maniera molto molto rapida, quando magari andiamo a fare uno scatto per scappare. Quindi questa componente va allenata in maniera assoluta. Potrebbe essere utile andare anche ad allenare la componente di forza dinamico massima. Per quale ragione? Perché gli angoli articolari a cui ci possiamo trovare in determinate situazioni probabilmente vanno a richiamare questa componente qua. E inoltre, avendo da gestire spesso il peso del nostro avversario, magari con delle prese, magari con delle leve, delle proiezioni o altro, la componente di forza dinamico massima entra in gioco, più di quella di forza massima. Quella di forza massima può entrare in gioco nel caso in cui noi cercassimo di andare a bloccare, a controllare o a portare una leva, stile jiu-jitsu. Bisogna valutare se ne vale la pena, perché ricordati sempre che quando andiamo a considerare un programma d'allenamento dobbiamo sempre andare lì col bilancino e soppesare il costo, sotto termini anche di tempo, e di tempo necessario per sviluppare determinate caratteristiche e di benefici. Quindi la forza massima in realtà potremmo lasciarla da parte. si può inserire sotto un punto di vista preventivo, ma a livello di performance, cioè a livello di quello che accade durante l'allenamento, secondo me, si può anche andare a evitare. Durante l'allenamento, scusami, durante l'azione si può anche andare ad evitare. Non è una componente essenziale, a differenza invece dell'esplosivo reattiva e della dinamico massima. E se poi andiamo ad analizzare, ci troveremo anche degli elementi di forza funzionale. Con forza funzionale, attento, non intendo tutto quello che è crossfit, non intendo tutti quei circuiti che non hanno né capo né coda, ma intendo l'abilità di coordinare, diciamo di usare la propria forza in un ambito più coordinativo. Quindi, in poche parole, di riuscire a gestire il proprio corpo con la massima efficacia. Questa è la forza funzionale per quanto mi riguarda. E per cui queste tre componenti vanno di sicuro allenate, perché la forza esplosivo reattiva ci serve per i colpi, la forza dinamico massima ci serve per gestire l'avversario, la forza funzionale ci serve per muoverci meglio, anche sotto stress, ed essere più ecologici, essere più efficaci, di spendere meno energie. C'è poi ancora una componente che si potrebbe andare a inserire all'interno del discorso della preparazione atletica per la difesa personale, ed è la forza metabolica, su cui dovrei farti un pistolotto a parte, perché è una branca molto particolare della forza, che praticamente ci permette di andare a erogare grandi quantitativi di forza nel tempo. Non è la resistenza alla forza, non è la forza resistente, è altro, ok? E questo, all'interno di un discorso di difesa personale, è molto importante, perché noi di media abbiamo un'aggressione che dura circa 10 secondi, però, 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 nella situazione concitata, in tutta una serie di, diciamo, di, appunto, di situazioni che si possono verificare, questa aggressione potrebbe anche essere più lunga. E quindi noi abbiamo bisogno di riuscire a erogare questa forza e mantenere questo livello di forza nel tempo, ok? E per cui la forza metabolica è una componente molto interessante da andare a lavorare. Il problema è il come, soprattutto se sei in gruppo. Sotto un punto di vista, invece, del fiato, delle capacità metaboliche, beh, sicuramente dovremmo avere un VO2 max molto alto, quindi una capacità di consumo di ossigeno molto, molto alta. Su questo io mi sentirei di dirti serenamente di andare a lavorare proprio a mani basse. È la capacità che maggiormente andrebbe lavorata, perché è quella che ci permette, diciamo, di... È un po' un passepartout, ok? È quella che, anche lavorassi soltanto quella, comunque sarei in grado di dare un colpo a un cerchio, un colpo alla botte. Non sarebbe male, anche se non fa proprio parte del modello prestativo, se lo vogliamo chiamare così. Ma non sarebbe male andare anche a lavorare le RAA, cioè le Repeat Activity Ability. Action, scusami, Repeat Action Ability. Ho fatto un attimo di casino. Cioè, quella capacità di andare a sviluppare un'azione breve con una potenza esorbitante, un'azione breve che dura al massimo 10 secondi, con una al massimo 10 secondi, guarda come torniamo sui tempi della difesa personale, con una potenza altissima per poi andare a recuperare energie in un tempo breve. Infatti le RAA lavorano moltissimo sulle capacità, sulla potenza di recupero. Ed è questo quello che ci interessa. La potenza di recupero cosa ci permette? Ci permette di recuperare in modo veloce, ok? In modo rapido e dovrebbero essere la base dell'allenamento metabolico degli sport da combattimento. Perché? Perché noi negli sport da combattimento andiamo a fare uno scambio che dura 6 secondi, 10 secondi, generalmente non di più. Dopodiché di solito c'è una fase di stacco e di fiato, di respiro, in cui andiamo a recuperare o andiamo a strutturare una nuova strategia o andiamo ad analizzare il nostro avversario. Questo è quello che a sommi capi avviene in tutti gli sport da combattimento. Ecco perché dovrebbero essere l'ABC degli sport da combattimento, l'RA. Perché in quella fase, se noi le lavoriamo bene, diventiamo bravi a erogare una potenza altissima durante la fase di scambio, mantenendo tra l'altro l'ucidità mentale. E poi durante la fase di recupero e studio a recuperare tantissimo in maniera tale da poter rierogare una sequenza con la stessa identica potenza di prima. E quindi a livello di sport da combattimento questo aiuta in modo esorbitante. In una situazione come quella del contesto di strada può essere utile, ma noi quello che interessa è soprattutto andare a spingere sulla potenza di recupero. Ok? Perché riuscire a recuperare in maniera rapida è essenziale. Perché? Perché magari io ho un'azione concitata, bom bom bom, riesco a uscirne, scappo a quel punto, mi fermo un attimo, recupero e magari succede qualcos'altro. E io quindi devo essere in grado di rierogare nuovamente forza a rierogare potenza e questo tipo di allenamento mi permette di farlo, di avere dei tempi di recupero sempre più ridotti, ai limiti della possibilità ovviamente. E poi andrebbero lavorate le capacità lattacide proprio perché potremmo trovarci in una situazione che non dura dieci secondi ma magari dura due minuti e in quei due minuti è un lavoro continuo. E non avere un buon metabolismo lattacido lì ci sega le gambe. Ok? Infine abbiamo un'ultima componente che sarebbe opportuno lavorare. Oltre, non l'ho segnato, la mobilità, quello è sempre per fare una questione di, per fare un lavoro di prevenzione. Ok? Quella è un caposaldo. Io non la segno ma è un caposaldo. Qual è? È l'abilità cognitiva, andare a fare tutti quei lavori di allenamento cognitivo che ci permettono di potenziare di fatto il nostro cervello, diciamolo in maniera proprio rude, rozza, però almeno è comprensibile per tutti, di potenziare il nostro cervello, di aumentare i livelli di attenzione e anche di avere l'abilità di agganciare un determinato bersaglio, un determinato target, sganciarsi per riagganciarsi a un altro target, sganciarsi per riagganciarsi a un altro target. Tutte queste cose insieme al miglioramento della vista periferica, insieme all'abilità di cambiare programma motorio, mentre che il programma motorio è stato lanciato, cioè cosa vuol dire? Che io vado a fare un pugno, vedo che l'altro mi sta rispondendo, io sono in ritardo e allora trasformo magari il pugno in una copertura, tutte queste abilità vengono lavorate dagli allenamenti cognitivi. Quindi, ricapitoliamolo un attimo perché mi sa che ho fatto un po' di casino. Quindi, vista periferica, capacità di agganciare e sganciare un obiettivo su cui focalizzarmi, ok? E questo è molto interessante in un contesto di rissa, per esempio, o in un contesto in strada perché ho bisogno di agganciarmi al mio avversario, ma controllare anche l'ambiente. E poi, tutto quello che riguarda la trasformazione del programma motorio, quindi la trasformazione del movimento nel momento in cui è già stato lanciato, sono cose che vengono allenate tramite l'allenamento cognitivo. E avere un buon livello di abilità cognitive è molto importante perché ci permette di gestire meglio la situazione. Per cui, queste sono le capacità che andrebbero allenate. E andrebbero allenate ciclicamente in base a cosa? In base a dei test. E torniamo sempre lì. Se non abbiamo un test, non abbiamo un risultato, non abbiamo un punto di partenza su cui ragionare e non abbiamo quindi la possibilità di decidere qual è la priorità per i nostri ragazzi o per me da lavorare. Sono carente in cosa? In queste cose qui. Qual è la prima cosa che desidero, che voglio che i miei ragazzi sistemino? Questa. Ok. Allora vado a creare un programma, cercando magari comunque di lasciare dei richiami agli altri, in maniera tale che le altre capacità non vengano, non si abbassino, per esempio. Ok? Ma se noi non andiamo a fare un test, non possiamo strutturare un programma. Un programma che solitamente, ripeto, si basa su dei cicli, su dei mesocicli. Dei cicli di 4 o 6 settimane dove andiamo a lavorare alcune capacità o anche una sola capacità. Dipende dal tempo che abbiamo a disposizione e via dicendo. C'è anche poi la possibilità di andare a strutturare dei mesocicli dove invece andiamo a lavorare a turno. Tutte le capacità che dobbiamo andare a strutturare, a lavorare, ma lì bisogna vedere se ne vale la pena. Perché i guadagni in questo caso sono minimi e per cui bisogna un attimo fare dei ragionamenti, mettersi a tavolino. Quindi, per quanto riguarda, andiamo un attimino a fare un ripassino. Poi ti consiglio di andare a scaricare lo schema perché sennò, secondo me, non riesci a capire bene il tutto. Però, per quanto riguarda le capacità nella difesa personale, noi dovremmo andare ad allenare le capacità di forza. E con forza intendiamo forza esplosiva o reattiva, dinamico massima, funzionale e metabolica. Le capacità metaboliche e soprattutto VO2max e potenza di recupero con un ricamino a tutto quello che possono essere le capacità lattacide. E poi dovremmo andare ad allenare tutto quello che è il comparto cognitivo. Per andare ad allenare queste caratteristiche, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare dei test, andarli a sottoporre ai nostri ragazzi o a noi stessi e da lì andare a fare le considerazioni su che priorità, su quali mezzi, su quali metodi, quindi come allenarle, su quali mezzi, con che strumenti allenarli. Questo è quello che andrebbe fatto, questo è quello che io ad esempio faccio con i miei ragazzi. Io a inizio mese li testo, valuto i test e da lì strutturo un programma di allenamento e decido se dare un maggior risalto alla preparazione atletica o un maggior risalto alla parte tecnica. Considerando che a parer mio, per quanto la preparazione atletica non sia essenziale, nel senso che comunque in situazioni di forte stress, se noi abbiamo una buona preparazione psicologica, una buona preparazione tecnica, riusciamo, dovremmo riuscire a uscire dalla situazione, perché abbiamo tutta una serie di ormoni che ci aiutano eccetera, più noi siamo preparati fisicamente, più abbiamo una base solida su cui andare ad appoggiare la parte tecnica. Ok? Per cui credo che comunque la parte di preparazione atletica sia molto interessante, molto utile da, scusami, la parte di preparazione fisica sia molto utile da andare a lavorare e alle volte è il caso di sacrificare un po' di spazio ad altro per dare in un determinato periodo una spinta a questa parte qua. Ora, sembra un casino, ma in realtà già tu a casa, da solo, puoi fare molto. Adesso ci spiego un attimo cosa. Intanto se ti vuoi testare vai a cercarti i test della ACSM. Sono dei test che si fanno a corpo libero e ci sono una serie di tabelle con cui puoi comparare i risultati. Sono dei test che hanno una buona validità perché sono stati fatti su un numero ampissimo di persone e quindi la validità è davvero molto buona. Non sono dei test che spaccano il capello in quattro, però ti permettono di avere già delle idee su qual è la tua situazione e su quali potrebbero essere i tuoi punti carenti, ok? Quindi, se non mi ricordo male, c'è il test dei piegamenti, il test dello squat, il test della tenuta alla sbarra, il test degli addominali, dovrebbero essere questi qua, e già con questo inizio ad avere un'idea della tua capacità di forza. Poi, se hai voglia, potresti anche andare a calcolare lo strength index, cioè quanto il tuo peso, quanto la tua forza incide sul tuo peso corporeo o viceversa. Meglio, diciamolo meglio, il rapporto fra il tuo peso corporeo e il tuo gradiente di forza. Altro non devi fare che andare a strutturare, andare a dividere il massimale per il tuo peso corporeo e lì hai uno strength index. Però devi avere un massimale. Con il lavoro sul peso corporeo si può fare, si può fare anche abbastanza agilmente, però devi un attimo prenderti... Ti direi, lo strength index lascialo un attimo da parte, va? Mi è venuto in mente mentre ne parlavo, non l'avevo neanche segnato, lo strength index lascialo da parte. Inizia ad usare le tabelle ACSM che vanno benissimo e ti riescono a dire se sei in un buon livello di forma fisica per quanto riguarda la forza o in un livello basso o in un livello eccellente rispetto alla media mondiale. Perché è veramente alto il numero di test che sono stati fatti con la CSM, quindi hanno una loro validità. Per quanto siano semplici e per quanto non diano un dato che spacca il cappello in quattro, hanno la loro validità. Dopodiché dovresti andare a fare un test metabolico per capire un po' questo VO2 max, come è stato fatto. Ora, ci sono due test che puoi fare, che sono semplici, non richiedono niente di che. Il primo è il test dei due chilometri, vi consiglio di andarlo a cercare su internet, in poche parole vai a vedere in quanto tempo riesci a percorrere due chilometri camminando, non si deve mai andare in corsa. Hai bisogno di un cardiofrequenzimetro però perché devi segnare i battiti di fine esercizio e il tempo. E da lì puoi calcolare in maniera abbastanza spannometrica il VO2 max. Oppure lo step test dove con un gradino di mi sembra 48 cm tu devi andare a salire e scendere da questo gradino a ritmo di metronomo. Se li cerchi su internet li trovi tutti, trovi di sicuro anche i video su YouTube dove ti spiegano come andare a farli. Io adesso non voglio dilungarmi in maniera eccessiva, ok? Una volta che hai fatto questi test hai un'idea un po' di qual è il tuo stato di forma fisica. Mi raccomando non dimenticarti di guardare anche l'indice di massa corporea, il BMI, che è molto importante perché è un valore che ti fa capire insomma se sei normopeso, sovrappeso o sottopeso. È vero, per una persona molto muscolata dà dei dati falsati, però per la media di solito è più che valido. Dopodiché, guarda che mi alzo un attimo la sedia che sto volando giù per terra, ok? Dopodiché, cosa puoi andare a fare? Puoi andare ad allenarti. Come? Allora, per quanto riguarda la parte metabolica, una corsa, andare a correre ad intensità elevate va benissimo. Ti metti un tuo cardiofrequenzimetro, vai all'85%, 80-85% della tua frequenza cardiaca massima e fai tutta la strada che riesci a fare all'80-85% della tua frequenza cardiaca massima. E questo è già un ottimo allenamento. Oppure puoi andare a fare un intervallato con il recupero completo. Quindi, sempre con la corsa o con il sacco, ti metti 3-4, ancora meglio, minuti di lavoro e in quei 3-4 minuti ci dai come un disperato, ok? Devi arrivare a frequenza cardiaca molto alta, in questo caso si parla del 90-93% della frequenza cardiaca massima. A quel punto, dopo che hai fatto i tuoi 3 o 4 minuti, ti fermi, fai 2 minuti e mezzo di recupero almeno, almeno in genere bastano 2 minuti e mezzo di recupero e ripeti, finché non hai fatto un totale di lavoro di 15 minuti. Quindi 15 minuti di lavoro effettivo al sacco o 15 minuti di corsa effettiva. E questo aumenta moltissimo il tuo VO2 max. Le RA sono un po' più complicate da lavorare. Dovresti fare una sequenza, magari al sacco, un esercizio che ti fa dare massima potenza in 6 secondi e recuperare 20, scusami, fai 6 secondi di lavoro o 10 secondi di lavoro e 20 di recupero, 6 e 10, 6 e 20, 6 e 20 per un blocco di lavoro di 3 ripetizioni, sto andando a memoria, dovrei andarlo a rivedere perché da tanto che non le alleno, poi fai un bel recupero lungo e ripeti, finché non hai fatto almeno 5 blocchetti di lavoro. Questo però inizia a essere un po' più complicato. Quindi io ti direi, rimani sulla corsa 85% della tua frequenza cardiaca massima e intervallato con il recupero completo. E già qui stai facendo un lavoro eccellente. Poi, forza, forza se non hai attrezzatura, corpo libero, per forza di cose. Se hai attrezzatura, ben venga, si può lavorare con i pesi, ma adesso non sto a dilungarmi in quello. Se no, puoi andare a fare dei lavori a corpo libero, dove l'obiettivo deve essere quello di andare alla potenza massima. Ok? Quindi il mio lavoro deve essere quello di fare i piegamenti alla massima, non di fare 500.000 piegamenti, ma di farne 10 a potenza massima. Ok? O i squat col salto ne faccio 10 a potenza massima. Per esempio, ti sto dando delle idee. E qui iniziamo a lavorare un po' sia sulla forza esplosivo-reattiva che un po' sulla forza dinamico-massima. Li dipende. Però inizi ad avere, di sicuro, un lavoro più reciso rispetto ad altro. Per quanto riguarda, invece, la forza funzionale, quello che devi fare è creare dei circuiti funzionali basati su un lavoro qualitativo. Per cui non vuol dire andare a prendere 700 esercizi e fare i yam rap, ok? Le as many repetitions as possible o i, come cavolo si chiamano, i, non lo so, sette giri a tutti i costi, ok? Nove giri di circuito a tutti i costi con dieci ripetizioni. No. Prendi otto esercizi, possibilmente due che richiamano il lavoro a terra, quindi andature, strisciare, varie ed eventuali, o i lavori in sospensione. Due che richiamano i lavori in equilibrio, due che richiamano l'attivazione della zona centrale, e poi dovresti prenderne due dove viene richiesto un lavoro di agilità. A quel punto vai a farti il tuo circuitino con 30 secondi di lavoro e 30 secondi di pausa e stai facendo un lavoro di forza funzionale qualitativo. Attenzione, però vada bene che le ripetizioni che fai devono essere in quei 30 secondi corrette, quindi non importa se ne fai, adesso esagero, una o 15, l'importante è che quell'una sia fatta molto bene, o ne faccio 5 ma le faccio molto bene, non ne faccio 15, le faccio alla cazzo di cane, ok? Devono essere fatte molto molto bene. E facendo così hai un tipo di lavoro che puoi fare serenamente a casa tua, senza grandi difficoltà, o che puoi proporre ai tuoi ragazzi in palestra, senza grandi difficoltà, che va a ricalcare un po' di più quello che è una situazione di difesa personale, una situazione, di quello che può essere appunto il modello prestativo, diciamo, della difesa personale. Spero di essermi riuscito a spiegare sufficientemente bene, spero di essere stato chiaro e di non aver fatto casino, perché mi rendo conto che io queste cose ce le ho in testa e magari alle volte quando le spiego, soprattutto così che vado a braccio e registro, non ho visivamente la persona davanti che mi dà un feedback anche soltanto con lo sguardo un po' allucinato, non me ne rendo conto. Quindi spero di essermi riuscito a spiegare bene, spero che questo discorso ti sia chiaro. Se così non fosse, mi raccomando, contattami, non devi fare nient'altro che contattarmi, e mi mandi un'email, eugenio.dojoshinsui.com e direi che mi spieghi quali sono le difficoltà e cerco di spiegarmi meglio. Ti consiglio di scaricare lo schemino che pubblico su il sito del Dojo Shinsui, dojoshinsui.com slash blog, e lì trovi lo schemino che sicuramente ti aiuterà a andare a seguire meglio questo ragionamento, magari sentendo una seconda volta il podcast. Bene, abbiamo fatto circa 30 minuti di podcast, direi che è più che sufficiente. Ripeto ancora una volta, se qualcosa non ti fosse chiaro, non esitare a contattarmi, e se invece così non fosse, beh, allora rimboccati le maniche e dacci dentro. Io ti aspetto fra due settimane per un'altra puntata di Karatepedia, la difesa personale per tutte quelle persone che non si sentono mandrache e che vogliono capire come cavarsela in strada cercando di, insomma, gestire la situazione e riportando meno danni possibili. Buona settimana e ci sentiamo alla prossima. Ciao! Tra gli altri contenuti gratuiti